Buonasera a tutti, oggi è mercoledì 21 settembre, sono le 19.01 e faccio un aggiornamento con l'Evoluta su Nasdaq. Allora, cosa ci si aspettava? Ci si aspettava una discesa per provare a ripartire e a chiudere il nostro mensile inverso. La discesa c'è stata, la ripartenza è arrivata molto più in basso senza andare a vincolare per ora questo massimo. E' quindi l'inverso. La discesa è sempre più profonda, è una di quelle cose che mi mette in allerta quando vedo che un annuale dovrebbe provare a spingere, soprattutto nella prima parte, a rialzo. E quindi, dato che siamo arrivati molto vicini al 78,6 di ritracciamento di Fibonacci, mi vengono i dubbi. E quando mi vengono i dubbi, inizio a ragionare sempre di più su quelle che sono le possibilità. Perché è un bravo analista quantitativo quando si accorge che è vero, è possibile che, da qui stia partendo appunto ormai serenamente, un t più 7 inverso, ovvero un ciclo minimo triennale, in media quadrennale e al massimo quinquennale, che prova a spingere verso il basso e a fare, come al solito, la nostra u, massimo, minimo, massimo. E quando vedo però certe cose, mi pongo delle domande, perché qui, su questo massimo, non si può essere chiuso a 184 giorni il primo annuale inverso. E quindi dovremo provare a continuare a spingere e a trovare, peraltro, la condizione necessaria e sufficiente per chiudere il primo annuale inverso, che è arrivato però appunto a questo punto a 209 barre. E per chiudere ha bisogno di che cosa? Ha bisogno di un mensile inverso ribassista. Poteva essere questo, avremmo potuto salire qui sopra e chiudere il discorso, anche soltanto a 25 barre. Con questo movimento, che non è andato a salire, ma solo a scendere, che può aver creato, peraltro, di indice un raccordo, vi faccio vedere una cosa interessante. Ovvero, quanto sta durando il tempo sopra questo minimo? Sta durando 66 giorni. 66 giorni che cosa sono? Sono, da tabella, meno di un semestrale o di un trimestrale. Dato che la forma mi ricorda sempre qualche cosa, anche se abbiamo avuto, anzi se abbiamo, sia l'elemento tempo che l'elemento swing, per dire che da qui può essere serenamente partito un annuale, vi faccio vedere una cosa interessante. Chiudendo il grafico, abbiamo che dal minimo fatto nel 2020, ovvero dal marzo 2020, abbiamo avuto prima un annuale, chiusosi qui, con tutti i crismi, poi abbiamo avuto un secondo annuale, con teoricamente un raccordo di grado t più 2, prima della partenza di questo altro annuale, e a questo punto devo fare dei controlli qui. Perché se qui invece trovo una chiave differente da un raccordo, di grado t più 2, che cosa succede? Se trovo che effettivamente qui si è chiuso senza un raccordo un biennale, tra un t più 6 e un t più 6, ci può essere un raccordo di che grado, guarda tu? Di grado t più 3, ovvero questo coso qua. No, ribadisco, è una possibilità, devo però rimettermi a fare determinati conteggi per il fatto che qui abbiamo chiuso con un raccordo tra un annuale e un annuale, e non posso avere un raccordo con un raccordo del raccordo e tutto il resto. Però il tempo di un t più 3 c'è, e quindi se qui trovo una chiave che per ora mi sembra parecchio farraginosa, questo potrebbe eventualmente essere non un annuale ma un raccordo. Ribadisco che tutte le condizioni per avere un annuale partito dal minimo del 16 di giugno ci sono, per cui nel caso si dovesse tornare proprio sotto questo minimo da cui è partito, ovvero gli 11.037 punti, vincoleremmo tutto l'annuale a ribasso, e quindi continueremo a cercare minimi inferiori a questo, per tutto il tempo di un annuale che minimo dura 192 giorni, ma noi siamo soltanto a 66. Ok? Quindi la situazione non è propriamente bella. Ci manca il nostro baffo per salire, ma può arrivare tranquillamente anche a 336 giorni l'annuale di inverso. E più si allunga e più sappiamo che, dato che qui abbiamo un t più 5 di inverso, da qui può essere partito un t più 7 di inverso. E quindi quel pluriennale di cui vi dicevo, 3 anni, 5 anni, minimo 3, massimo 5. Che è vero che chiude con un baffo, che poteva fare qua, ma non l'ha fatto, sta continuando a spingere verso il basso. E qui abbiamo che è stato violato lo swing per la partenza del nuovo t più 3 inverso. E adesso con 25 giorni sotto questo minimo, sotto questo massimo, noi possiamo anche lanciare eventualmente un t più 4 inverso. Adesso controllerò se questo è uno swing adatto a parlare di un t più 4 inverso. Nel caso, facciamo attenzione, ripeto, questo è un minimo estremamente importante. E se escludiamo il discorso del raccordo, perché non ci può essere un raccordo di raccordo, in violazione di questo minimo, la situazione inizierà a precipitare, precipitare pesantemente. Anche perché più si allunga il tempo, più arriviamo vicino ai 400 giorni, noi però siamo a metà, e più, se non iniziamo a violare dei massimi, si continua ad andare giù. Potrebbe essere un pluriennale non piacevole, anche perché è il secondo pluriennale. E quindi, se il primo è stato ribassista, e quindi si è saliti, perché l'inverso, se è ribassista, porta a salire, il secondo potrebbe non essere ribassista, e quindi portare discesa lato indice. Questa è la premessa fondamentale, prima che parli la Fed, in modo che io vi dica già che il rischio grosso è di una continuazione di discesa, in qualsiasi caso ci trovassimo, qualsiasi tasso o altro, e che se non si riuscirà a risalire qui sopra, nella realtà dei fatti, si rischia di continuare ad andare giù. Per cui, torna preponderante il discorso che feci tempo fa per la gestione dei patrimoni, non soltanto del trading, con Tokos SCF, un'informazione può essere sempre interessante, per cui, se avete qualche cosa da proteggere, scrivetelo nei commenti sotto a questa analisi. Ritorniamo noi, breve, ok? 1. Qui può essersi chiuso il 55 giorni, primo T più 3 trimestrale. Tra un trimestrale e un trimestrale, può esserci un raccordo, quindi questa candela può non aver mutato tanto la sostanza delle cose. A questo punto, però, mi aspetterei la partenza del vero trimestrale, quindi salita, teoricamente. Se invece non sarà salita, noi abbiamo questa, di nuovo, non tanto piacevole opportunità, che da questo minimo siamo rimasti sopra gli 11.928 per 6 giorni. Quindi, mensile già tutto vincolato ribasso? È una possibilità. Purtroppo, è una possibilità. E quindi, anche in questo caso, raccomando tutti di verificare che cosa è successo se abbiamo violato lo swing per la partenza di un mensile da qui, oltre ad avere il tempo, necessario e sufficiente per crearlo. Perché nel caso, si scende, si va giù, ok? I target sono prima i 14.000, gli 11.422 e poi ce la si gioca in quest'area qua. Questo, ribadisco, lo dico, prima della Fed, perché in questo momento i cicli ci stanno dicendo che c'è una forza talmente scarsa per la partenza di un annuale che se non arriva qualche cosa di forte che inizia a salire sopra questo livello, questo livello, eccetera, eccetera, noi avremo delle grandi opportunità a non andare long e a shortare i top di questi cicli maggiori che arriveranno. Altra cosa, qui abbiamo uno, due, tre, quattro candele a rialzo, nuovo settimanale, siamo oltre le undici, in questo momento siamo esattamente a undici, ma non abbiamo trovato un minimo, quindi, anche in questo caso c'è, ci sarà un'opportunità dalle 20 di questa sera di capire che cosa vogliono fare. Ribadisco, il tempo di inverso sta per terminare. siamo arrivati a sette barre, non abbiamo potuto chiudere a cinque, sette barre dovevamo cercare un top prima di eventualmente tornare a scendere. Per cui, come di consueto il consiglio è se siete flat, rimanete flat prima delle 20 per evitare qualsiasi opportunità ricordatevi che qui il rischio è che o si parte e si fa partire un nuovo trimestrale rapidamente, quindi si sale rapidamente o si rischia un nuovo mensile già tutto vincolato al ribasso e lo sapremo dagli swing. Se non saliremo sopra questo massimo rapidamente nei tempi corretti grazie alla partenza di un nuovo trimestrale questo mensile è ribassista e quindi si continua a scendere. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. La mia lo sarà sicuramente perché sono flat e aspetto questo dato interessante per vedere che cosa succede. Buona giornata a tutti arrivederci. Grazie a tutti.